Uno, due, tre... Quello di cui noi abbiamo paura è l'alleanza, perché quando ti allei con i ladri, quando ti allei con questa gente, prima o poi finisci come la Lega, finisci anche tu a comprarti il lingotto, a comprarti le mutande, a farti rimborsare i gioielli. Io l'ho lasciato così, l'ho lasciato la giunta in Saldano per dieci anni, perché ero convinta che fosse la cosa più giusta di fare, ma quando ho visto che mi toglievano il verde, che è una priorità, è una cosa per tutti, e adesso questa cosa non è da fare. Ho scelto di impegnarmi nel Movimento 5 Stelle perché credo nel progetto di cambiamento del Movimento relativamente a questo paese. Mandateci le notizie, studiatevi quello che succede sul vostro territorio e noi faremo da apri scatole e faremo come vostra tutela, ci metteremo la faccia e ci metteremo a combattere per voi. E ce lo chiede l'Europa, cosa ci chiede l'Europa? Che cosa ci chiede? Di portare in pensione la gente a 67 anni? Poi ci stupiamo se abbiamo una disoccupazione che supera il 43%? I nostri eletti ballerine, Iva Zanicchi o calciatori adesso, Tardelli, sono persone del tutto incompetenti e che non hanno nessun interesse a informare i cittadini. Si prendono una poltrona comoda a Bruxelles, lontano dalle luci della rivarta e dall'attenzione del Parlamento, stanno lì, si pensionano finché non hanno qualcosa di meglio da fare. Questo qua rubato per un anno intero in comune, c'è un ricchetto per tutto l'anno, allora è un ladro? Dopo la Germania siamo tra le nazioni che hanno il maggior numero di sessi, perché non è successo niente fino ad adesso? Perché abbiamo portato lì dentro persone incompetenti nella migliore dell'Europa o criminali che hanno segnato il nostro futuro. Tanto vinciamo noi! Saluta! Saluta!